La scuola è la scuola per presentare le comprade di Trescore Baleario che dopo tanti, tanti, tanti anni ritornano a cimentarsi con una gara, non è il palio di allora, sono alcune gare inserite in questo programma, in questa edizione della festa dell'Uva, con le varie comprade che rappresentano la storia, la tradizione di Trescore Baleario. Le comprade sono Contrada Piazza, Contrada Strada, Contrada Riva, Contrada Torre, Contrada Campone, Vallessi e Muradello. Stanno anche preparando i muscoli per le tre gare che verranno. Stanno anche preparando i muscoli per le tre gare che rappresentano i muscoli per le tre gare la cultura. Grazie. 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 Grazie a tutti! I giudici sono arrivati adesso a definire la classifica dopo la seconda gara che ricordo la gara della corsa con le botti. I giudici sono arrivati adesso a definire la classifica dopo la seconda gara della corsa con le botti. Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Puoi prepararvi, ragazzi, sarà la finale tra il primo e il secondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.